Si è chiusa tra gli applausi nella splendida cornice del teatro romano la tre giorni di festa delle tavole gubbine che ha caratterizzato lo scorso weekend a Gubbio. Sul palcoscenico applaudita, la performance della compagnia e il teatro della fama, con lo spettacolo Le parole venute dal passato, dedicato ovviamente alle tavole, è ancora più simbolicamente suggestivo perché portato in scena proprio nel luogo dove le tavole sono state ritrovate nel lontano 1444. Uno spettacolo che ha chiuso la tre giorni, che ha segnato la terza edizione della festa delle tavole gubbine, fortemente voluta a suo tempo dall'attuale assessore alla cultura Augusto Ancillotti, cui si deve il merito in passato, nelle vesti di glottologo di aver dato identità e valore proprio alle tavole, con la creazione anche dell'Irdau, l'istituto di ricerca e documentazione sugli antichi Umbri. Non è casuale nemmeno la scelta del periodo della manifestazione, il 12 luglio. Proprio nelle tavole gubbine, infatti, viene descritta una grande festa che si teneva il dodicesimo giorno del mese quintile, che secondo il calendario adottato dagli Umbri, che partiva a primavera, dunque a marzo, sarebbe il mese di luglio. Un fine settimana denso di appuntamenti, che si è aperto venerdì alla sala trecentesca di Palazzo Pretorio, con un convegno dal titolo El Umbria di Venneromana, una chiacchierata che ha visto la presenza di studiosi, degli Umbri, glottologi, storici ed archeologi, e con un numeroso pubblico presente. Ovviamente ad aprire le danze, l'assessore, studioso delle tavole gubbine Augusto Ancillotti, che ha introdotto l'incontro e analizzato da studioso alcune presenze di lingua latina nelle tavole gubbine. Con lui hanno partecipato alla dotta, ma accattivante conversazione, Francesco Marcattili, ricercatore di archeologia classica all'Università di Perugia, Luana Cenciaioli, funzionario archeologo presso la soprintendenza archeologica, Laura Bonomi Ponzi, già funzionario archeologo, sempre alla soprintendenza Umbra, e Alberto Calderini, ricercatore di glottologia all'Ateneo Perugino. L'occasione è stata propizia anche per parlare di ulteriori recenti scoperte, come quelle di un foro romano prospicente, l'area della Guastuglia, dove anche in queste settimane sono in corso scavi e studi da parte dell'Università di Perugia. Venerdì sera poi c'è stato spazio anche per appassionati e per i più piccoli, con l'apertura serale fino alle 24 del Museo di Palazzo dei Consoli, dove sono conservate le tavole gubbine, ingresso gratuito per gli egubini e soprattutto un originale laboratorio di calcografia, molto partecipato, dedicato ai bambini, che si sono divertiti a creare la propria maglietta ecuvina, prendendo così contatto in modo giocoso con gli stilemi delle tavole. Il programma è proseguito sabato al Chiostro di San Pietro, con la partecipata e applaudita performance dell'attore Riccardo Tordoni, su musiche di Paolo Ceccarelli, che ha interpretato un antico Umbro in mezzo a noi, ispirato al romanzo di Augusto Ancillotti, Pane di Farro. È seguita la cena a San Pietro con degustazione di pietanze tratte dai rituali delle tavole gubbine, con la crescia grande mattatrice. In definitiva un weekend dal gusto speciale, dove le tavole, dopo l'apparizione anche ad Expo 2015, hanno rinnovato la propria presenza poliedrica nel panorama culturale gubbino.